faccia a vista o stucco che vince secondo me sempre faccia a vista 4 e 5 giugno qui a largo cesare battisti il professor maurizio enrico organizza con noi via degli artisti cultura venite 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 animazione artistica e bambini musica e le sorprese di tuscia e fiori insieme alla via degli artisti sabato 4 domenica 5 giugno venite venite alla mia età non si parla degli errori rumorosi si parla per 15 secondi a una foto e non c'è un angolo in cui appaio bello ma la via degli artisti sarà bellissima 4 5 giugno a piazza del comune venite 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 grandi sorprese